Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quella che tengo in mano è la prova che si può fare manga senza saper disegnare. Come vi chiederete voi? Bene, avendo una storia che spacchi davvero i culi. Dovete sapere che la prima volta che mi sono approcciato all'attacco dei giganti per me è stato un mezzo incubo, in quanto sono davvero fanatico dei disegni all'interno di un manga. Cioè per me la cosa più importante sono proprio i disegni. Se quelli non mi convincono è raro che lo acquisti ecco. Nel caso dell'attacco dei giganti nel 2012 è stato il mio periodo in cui provavo un po' di tutto. Dovevo ancora capire cosa mi piacesse realmente per cui qualsiasi cosa c'era che mi intrigasse un minimo la prendevo. Ecco dopo aver finito di leggere questo primo volume mi aveva fatto così brutto letteralmente che non la volevo più infatti la volevo regalare in un contest come qualcuno di voi si ricorderà. Semplicemente perché vedevo tantissime persone parlarne bene ma io non ne capivo il motivo. Ma se andiamo più in dieta addirittura al capitolo one shot l'attacco dei giganti che ha fatto Isayama anni prima e guardiamo queste tavole veramente abbiamo i brividi. Nessun editor avrebbe mai accettato una cosa del genere. Bisognava essere non lungimiranti, dei cazzo di geni per accettare un lavoro del genere e capire il potenziale che potesse avere. Ad oggi è la seconda opera più venduta in Giappone dopo One Piece. Cioè One Piece. Trovo tutto ciò veramente fantastico e anche il fatto che certe volte bisogna andare oltre il mero aspetto grafico e catapultarsi un po' di più nella storia perché altrimenti rimaniamo solo sulla superficie e non lo capiamo a fondo. Infatti l'attacco dei giganti ad esempio l'ho rivalutato molto dopo l'anime. Ho visto l'anime, wow che figata, anche perché era disegnato nettamente in modo migliore rispetto al manga per cui ho detto wow bello e da lì ho ricominciato poi a recuperare il manga che ora vedete lì alle mie spalle ecco. Ma per circa tre anni se non erro da quando ho preso questo primo volume non sono riuscito a comprarne altri proprio perché mi disgustava e infatti mi chiedevo ma come ha fatto a vincere questi premi? Chi è il pazzo che l'hai andato a pubblicare? Ora perché questo discorso? Semplicemente perché tantissime volte al giorno ricevo dei messaggi da parte vostra del tipo eh mangaka vorrei tanto fare manga ma non so disegnare, eh mangaka ma anche se non so disegnare posso fare manga? La risposta ovviamente è sì se la vostra storia spacca i culi, se quello che avete in mente è veramente distruttivo non ci sono disegni che vi possano fermare perché il disegno è solo una questione di pratica, di allenamento. Se noi prendiamo ad esempio il volume 17, uno così a caso l'attacco dei giganti, guardiamo come siano notevolmente migliorati ma di gran lunga proprio ora a parte l'aiuto degli assistenti che comunque era sempre presente, guardiamo i volti, le espressioni dei personaggi sono veramente su un altro livello e questa è solo una questione di allenamento, disegnando tanto, tante volte, ogni giorno si migliora per forza e anche qui colgo questo spunto per dare una risposta a un'altra domanda che ricevo molto spesso che è come faccio a imparare a disegnare? Il maestro Donatello è stato uno dei primi a dirlo, per imparare a disegnare devi disegnare ma tanto! Quindi non è molto difficile, l'importante è applicarsi su quello che si fa, è ovvio che se disegnate mezz'ora oppure un'ora al giorno prima che vediate dei progressi dovranno passare anni e anni e anni, mentre se disegnare alla vostra passione, ogni giorno ci passate quelle 4-5 ore, vedrete dei progressi molto molto velocemente e non c'è bisogno di acquistare dei libri di test assurdi. Io come sempre in ogni video nella descrizione trovate i libri che consiglio, ma semplicemente perché sono quelli con cui mi ci sono trovato meglio e ne bastano giusto un paio in modo tale da non spendere cifre esorbitanti. Ma se invece il vostro budget è pari a zero, non importa, avete a casa un libro, tutti, da cui potete imparare tantissime cose sul disegno, che è quello di storia dell'arte, ora voi prendete il libro di storia dell'arte, quello in cui c'è l'arte greca, e iniziate a copiare tutte le statue che vedete, infinite volte. In questo modo iniziate a capire i primi rudimenti dell'anatomia umana e non dovete comprare nessun altro libro, ce l'avete già con voi. L'attacco dei giganti reinventa il canone dello shonen classico, lo rende una cosa totalmente nuova e secondo me è anche questo il suo punto di forza. Ora, non ne voglio fare una recensione, ma lo volevo solo usare come spunto in questo breve video per farvi capire che i disegni non sono la cosa più importante, sono al 50% con la storia. Ora, come diceva una manga che ha molto più grande di me, se si hanno dei buoni disegni, allora è un bel manga, se si ha una buona storia, è un bel manga, ma se si hanno una buona storia e dei buoni disegni, allora diventa un'opera d'arte. Qui il concetto è un po' questo, l'attacco dei giganti è partito con una buona storia, che poi i disegni così rudi, violenti, si coniugassero bene a quella storia, è vero in parte, però vediamo come negli ultimi volumi dove il disegno è diventato sempre migliore, o anche nell'anime dove il disegno è migliore, come tutto ciò l'abbia fatto diventare una vera e propria opera d'arte. Quindi tutti quelli che si scoraggiano perché non sanno disegnare, se vi piace disegnare, disegnate. Fine. Mettetevi sotto e disegnate se è quello che vi diverte fare, mentre se non avete nessun interesse nel disegnare, proprio non vi piace, allora scrivete tante storie. Se quello che vi piace è fare storie, scrivetene tantissime, ma una marea. Uno è un allenamento ottimo anche per la vostra mente che continua sempre a dover rielaborare cose nuove e come secondo sia mai che tra tutte quelle storie che avete scritto c'è veramente un'opera. Chi mi conosce meglio sicuramente lo sa, ma io in primis sono del parere che se volete veramente una cosa e fate di tutto per ottenerla, alla fine ce la fate. Non importa quanti anni passeranno, non importa niente, se voi volete una cosa e vi impegnate al 100% per ottenerla, vedrete che alla fine ce la farete. Onestamente anche a me all'inizio sembravano un po' delle frasi fatte, del tipo ah sì bravo tu ce l'hai fatta e non ce la farò mai. E invece no, ho scoperto sulla mia pelle che è vero, se voi vi mettete con tutto voi stessi in qualcosa, ci provate fino alla fine, vedrete che ce la farete. Ultimamente leggo tantissimi commenti e anche messaggi privati in cui mi linkate dei miei vecchi video, in cui parlavo del mio sogno di fare manga, che non vedevo l'ora ma parlo di video di almeno 5-6 anni fa, che sotto avevano decine e decine di commenti di persone che mi scrivevano ah ma tanto non ce la farai a fare manga è impossibile, fare manga per una persona che non è giapponese, non è in cielo né in terra. E allora tanti di voi giustamente mi hanno chiesto ma cosa dici a queste persone, alle persone che un tempo ti insultavano, che hanno detto che non ce l'avresti mai fatta a fare un manga, che eri solo uno stupido avere un sogno del genere, un'illusione. Onestamente non ho nulla da dire a queste persone, ho i fatti che parlano al mio posto, per cui credo che se prima potessero rosicare ora rosicheranno tantissimo, quindi se non mi vedete rispondere a certi commenti o a certe cose è semplicemente per quello, non ne ho bisogno. Se io facendomi il culo oggi sono qui e loro sono ancora lì, un motivo c'è e lo capite benissimo da soli. Detto questo ragazzi, io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video, spero davvero vi abbia dato un po' di carica per seguire i vostri sogni, al di là che riguardino i manga, che riguardino i fumetti, che riguardino il cinema, magari non lo so qual è il vostro ambito, la musica magari, quello che posso dire da uno che tra virgolette ce l'ha fatta è non mollate mai, non perdete tempo con chi vi dice ah non ce la farai, lasciateli stare, metteteli di lato, continuate per la vostra strada e vedrete che mangeranno solo la vostra polvere, quindi non preoccupatevi di chi vi denigra o di chi vi insulta, lasciateli proprio perdere. Voi andate dritti verso il vostro obiettivo e vedrete che una volta che sarete arrivati vi girerete e non conteranno più nulla per voi. Detto questo ragazzi, io come sempre vi ringrazio per aver visto il video, spero vi sia piaciuto, se è così ve ne lascio altre due interessanti qua accanto a me che vi invito davvero ad andare a vedere. Se non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati su tutti i caricamenti futuri, scrivetemi nei commenti qual è il vostro sogno, sono curioso anche di capire chi mi segue qual è il sogno che ha nel cassetto, cos'è che vorrebbe fare, cosa volete veramente raggiungere. E detto questo noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video!